3 2 1 4 4 5 5 6 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 14 14 14 15 15 15 16 chiami nico scusa nico cosa fai sul bulldozer nico cosa fai sul bulldozer no no ho problemi ho problemi quando avevo scaricare le remote la sera anch'io infatti anch'io sto avendo questi problemi qua c'è adesso non mi resta scaricando a 56 kb che kb nico eh cosa stai facendo rega io vado a casa ciao guarda questi due bella per pollo ho comprato una barretta di cioccolato blu la porta a casa addio adesso hai un secondo pollo ah scusa ah scusa devo portarvi la spazzatura aspetta dove è il cestino qua ecco guardalo no dove vai patume il sacco della spazzatura dove scappi chi ha appena suonato un tot va via nico c'era loris che si stava ingroppando monster corcello e adesso monster si sta ingroppando la casetta ma perchè io prima in registrazione con te ma non si mancava qua niente adesso non si manca è finito di far casino pollo e quella è la sfiga della registrazione e vai lores non sai di che eh dove va lei qua mi sa che non va a finire bene qua prima o poi si bugga tutto salta tutto in aria guarda è proprio uno schifo sto camion a zero di collision no ce l'ha la collision non sai quanti allora adesso faccio casino anch'io yeee pollo che volo hai fatto hai compiolato Alem ma cos'è in quale partita in Agrico dove sono esimass bgpda randazzo tridem fende 500 vario forreal banca of anglestad auto ma come cazzo è possibile che mi mancano class lexion io mi ricordo che li ho scaricati John Deer B2 e che hai una carta dove hai detto tutte quelle altre moda no ho messo dentro le tue ah no le ho messo dentro quelle di Manolo ah è giusto ho messo quelle di Manolo dentro più la più il mio John Deer 100R e il 5